Marche, comunicazione, ebraismo. E questo è il titolo dell'incontro capitale di Pesaro 20-24 che ha visto come ospite il giornalista Klaus Davi in dialogo con Marco Ascoli Marchetti, presidente della comunità ebraica di Ancona, e Giulio Disegni, vicepresidente dell'UCEI. Un appuntamento, quello tenutosi a Palazzo Gradari, che ripercorre storie e tradizioni dell'ebraismo, con uno sguardo al presente ed un altro rivolto all'atturismo. Il momento è difficile, c'è un antisemitismo che sta crescendo a vista d'occhio, però noi vogliamo, noi, gli organizzatori, l'unione delle comunità, il presidente Ascoli, abbiamo voluto metterci la faccia perché la tradizione ebraica delle Marche è una tradizione molto radicata, millenaria, disseminata in tutto il territorio, Ancona, Fano, Senigallia, Urbino, Apecchio, tantissime località e non tutti i marchigiani sono consapevoli di queste opportunità, del fatto che sia un tesoro, una meta turistica da valorizzare, ovviamente senza dimenticare quello che sta succedendo in Medio Oriente. Però noi abbiamo fatto una ricerca, te lo voglio dire, e i dati sono estremamente incoraggianti, i marchigiani sono molto attenti, molto vicini e molto aperti sulle possibilità di dialogo con le comunità ebraiche e c'è una forte sete di conoscenza, quindi una forte domanda interna e ovviamente noi puntiamo con questa operazione anche al turismo internazionale, parliamo di 20 milioni di persone potenziali, quindi non proprio poco. Il presidente della comunità ebraica di Ancona, Marco Ascoli Marchetti, si concentra invece sulla comunità ebraica molto presente sul territorio marchigiano e della provincia di Pesero Urbino, attraverso la tradizione e la scoperta all'insegna della memoria e del ricordo. La presenza ebraica nelle Marche che è data da così tanto tempo e forse non tante persone sanno quanto antica e quanto contributo ha dato la comunità ebraica nelle Marche, questa è l'occasione per rinfrescare un po' la memoria. Non è una cosa facile da far comprendere, ma la memoria va anche coniugata in un altro senso, cioè mantenere il ricordo delle persone, è come mantenerle un po' in vita. Siccome nell'ebraismo la cosa più importante è la vita, mantenere il ricordo di una persona è come farla continuare a vivere, in un altro modo, però continua a vivere, perché questo è il significato più profondo di memoria. A parlare dei fatti attuali e dello stato della comunità ebraica delle Marche è il vicepresidente dell'UCEI, Giulio Disegni, che racconta di un vento d'odio che sperava avesse smesso di soffiare. Il periodo, come ha detto lei, è durissimo, molto difficile, c'è una crescita esponenziale di odio e di antisemitismo inaspettati dopo il 7 ottobre, non che l'antisemitismo non ci fosse prima, ma sicuramente è cresciuto moltissimo ed è un antisemitismo frutto di ignoranza, essenzialmente perché la gente non sa e quando uno non sa va avanti per frasi fatte, luoghi comuni, eccetera, e questo crea sicuramente un grave danno. Per cui la gente vive male, gli ebrei in Italia, nelle Marche, ovunque, vivono male questa situazione perché non c'è nessuna colpa nell'essere ebreo, ovviamente, ma dovrebbe essere la società civile che si fa carico di capire, far capire soprattutto alle generazioni giovani, agli studenti, che cos'è l'ebraismo, che cosa sono gli ebrei, che cos'è lo Stato di Israele, come è nato, eccetera. Tutto questo non c'è, per cui c'è una confusione enorme, dalla confusione nascono i pregiudizi e questo si può combattere con la cultura, con la conoscenza, con la conoscenza della storia, con la conoscenza delle tradizioni, che sono un antidoto per sconfiggere l'odio, perché adesso di questo si parla. Si pensava che quello che è successo con le leggi razziali del 1938 e con la Shoah, insomma col capitolo buissimo della Seconda Guerra Mondiale, fosse finito, invece è ripreso sotto una nuova veste. Poi chi attacca anche sui social, soprattutto, naturalmente non dirà mai che ce l'ha con gli ebrei, però ha questo modo di approcciarsi che è assolutamente, come dicevo prima, frutto dell'ignoranza. Quindi non ce lo sospettava, anche perché quello che è successo proprio dopo il 7 ottobre, il 7 ottobre è iniziato con una guerra precisa, voluta da Hamas, che è una forza terroristica, che ha fatto quello che ha fatto e chiaramente poi c'è stata la risposta. Il messaggio è di essere uniti, di cercare di sconfiggere l'odio con la presenza, la vita va avanti, bisogna non nascondersi, fare le attività che si devono fare e continuare con la cultura. Questo è, credo, l'auspicio che abbiamo tutti. L'auspicio più grande è quello che, naturalmente, in questo momento finisca quanto prima.